dalla penisola iberica un vasto campo di alta pressione si muoverà verso il mediterraneo centrale questo determinerà qualche giorno stabile sul nostro territorio tuttavia avremo ancora correnti d'aria fredda da nord che manterranno basse le temperature martedì sul vicentino la giornata inizia con cielo sereno poco nuvoloso dal pomeriggio in transito velature in arrivo da ovest che andranno ad obbuscare il sole temperature in calo mercoledì 27 gennaio per tutta la giornata ci saranno passaggi di nubi alte e sottili che si alterneranno a momenti più soleggiati temperature stazionari e gelo nelle ore più fredde della giornata a tutte le quote giovedì continua il tempo stabile cielo variabile per la presenza di velature montagne avremo un rieve l'ialzo termico mentre nelle vallate in pianura non ci saranno variazioni sulle temperature clima pienamente invernale per quanto riguarda la tendenza copertura nuvolosa in aumento nella seconda parte di venerdì tra sabato e domenica sarà possibile un rapido passaggio perturbato da ovest con pioggia in pianura neve in montagna temperature in aumento a partire da venerdì